Buonasera, questa è assemblea on air, ecco i nostri titoli. Consigliere al porto di Ravenna, un piano da 235 milioni per potenziarlo ancora. L'allegria al potere, Saliera celebra il 68 a Bologna. Migliorare la par condicio, in assemblea l'evento dei consigli regionali. L'università manda i suoi giornalisti al Parlamento regionale. Più di 6.000 addetti nell'app portuale, 15.000 considerando l'indotto, quasi 3.000 navi entrate nel 2017 di cui una cinquantina di crociere e oltre 8.000 treni merci transitati. Questo è il porto di Ravenna dove le commissioni politiche economiche e territorio si sono recate in visita istituzionale. Per l'economia il tema della logistica dei trasporti è un elemento fondamentale e basilare e abbiamo potuto constatare dall'illustrazione che il Presidente ci ha fatto come il porto di Ravenna si è interconnesso un po' con tutti i territori e con tutti gli altri sistemi comunque di comunicazione e di trasporto. Il porto non è solo un polo logistico ma anche un importante presidio sanitario per il controllo delle merci in transito, in particolare quelle in arrivo. Il passo delle termopili della mangimistica italiana. Infrastruttura di importanza strategica per il comparto economico e produttivo delle miglia romagne del nord Italia, specializzato nella movimentazione della merci alla rinfusa, tipiche del settore industriale e agroalimentare, lo Scala Oravennate vivrà nei prossimi anni un importante rilancio industriale. Dragaggio dei fondali del canale per portarlo a una profondità di oltre 14 metri, rifacimento delle banchine per garantire l'operatività dei terminal anche durante i lavori, realizzazione di nuove aree logistiche con due stazioni ferroviarie merci e un nuovo hub container. Un progetto da 235 milioni di euro finanziato che potrà dare ulteriori prospettive di sviluppo commerciale, industriale e strategico a questo territorio importanti per rilanciare l'economia e l'occupazione di tutta l'Emilia Romagna. Una grandissima non solo occasione di sviluppo economico ma anche sociale e produttivo e porta l'Emilia Romagna al centro dell'Europa e porta un contributo fondamentale alla crescita del sistema paese e nazionale. È una grandissima opportunità per tutta la Romagna e per tutta la regione Emilia Romagna, quindi hanno fatto qui un bellissimo lavoro, vedo che si vogliono ampliare e noi avremo un gran sostegno anche a livello nazionale dato che adesso come Lega siamo al governo. È una grande infrastruttura, è importante per la logistica del futuro, per togliere dalle strade tanti merci che invece possono viaggiare su acqua e poi su treno, quindi va seguita molto bene l'implementazione delle linee ferroviarie, va seguita sicuramente con attenzione la parte problematica che saranno i fanghi di escavazione e la realizzazione del grande impianto di GNL che destra qualche preoccupazione. La ricerca di una sempre maggiore modalità di trasferimento merci su rotaia è strategica in termini ovviamente sia di traffico ma anche e soprattutto in termini ambientali. Ovviamente è una realtà che deve imparare sempre di più a convivere con questo ambiente, però è stata una visita molto interessante. Nel cinquantesimo anniversario dell'anno che scosse Bologna e tutta Italia, la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Simonetta Saliera, taglia il nastro della mostra Non è che l'inizio, tracce del 1968 negli archivi bolognesi. Pannelli di foto e documenti sulle storie del 68 bolognese raccolti da 14 archivi storici, storie di conquista dei diritti che partono dalla critica alla neutralità della scienza. I temi sviluppati attorno a questo concetto spaziano dal mondo dell'università a quello del lavoro, dai cambiamenti di genere fino alla medicina, che anche allora era al centro del dibattito politico. Sono stati anni di rottura col potere precostituito, con l'autorità, ma con la consapevolezza che potevano farcela nel modificare, nel migliorare il mondo. Con una certa allegria il 68 si è affrontato. Sono stati gli anni di movimento e di incontro fra studenti e lavoratori. All'inaugurazione erano presenti l'assessore alla cultura del comune di Bologna, Matteo Lepore, Lisabetta Arioti della soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna e il curatore della mostra, Mauro Maggiorani. La mostra rimarrà visitabile fino al 26 ottobre in Assemblea Legislativa. La legge 28 del 2000, nota in più come legge sulla par condicio, ha ormai quasi 20 anni. Nata tra l'altro per evitare l'abuso della comunicazione pubblica durante le campagne elettorali, nel tempo ha scontato prassi diversificate e difficoltà nel praticare il diritto dovere di cronaca, anche nell'informazione istituzionale. Proprio per questo, la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, attraverso il coordinamento dei responsabili degli uffici stampa dei consigli regionali e in collaborazione con l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, promuove il convegno dibattito par condicio a informazione istituzionale, una legge da rivedere. L'incontro a Bologna è fissato per lunedì 22 ottobre, a partire dalle 9.30, nella sala polivalente Guido Fanti dell'Assemblea Legislativa. Allo stesso tavolo i principali attori istituzionali, Agicom, Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla RAI, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Corecom Regionali e l'Associazione Radio e TV Locale, Areanti Corallo. Due squadre, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna e il Master in Giornalismo dell'Università di Bologna, ognuno in trasferta sul campo dell'altra a spiegare il proprio schema di gioco. Dal 23 al 26 ottobre il Parlamento regionale si presenta a una redazione giornalistica che è in erba, che accetta la sfida di capire e raccontare il luogo dove si fanno le leggi. La settimana in cronaca dell'Assemblea Legislativa prevede quattro giornate di incontri. Al mattino la conoscenza dell'istituzione. Al pomeriggio i giornalisti del Master racconteranno sulla propria testata l'attività quotidiana dei consiglieri regionali, che istruiscono, emendano e preparano per l'aula i provvedimenti di legge. Gli incontri frontali del mattino nella sede del Master saranno tenuti da dirigenti, funzionari, giornalisti e figure di garanzia del Parlamento regionale, che tratteranno diversi temi, dal legislativo all'informazione, passando per il culturale e il sociale.